La versione moderna della tombola risale al 1734, quando Carlo III di Borbone legalizzò il gioco dell'otto vietandone tuttavia la pratica nella settimana di Natale, dedicata alla cura dello spirito. Fu così che l'arguzia popolare perfezionò la versione domestica del gioco, col paniere dei numeri e le cartelle. Nei quartieri spagnoli di Napoli vive ancora oggi la tradizione delle tombolate di gruppo, con la narrazione improvvisata di storie ispirate dalla smorfia partenopea, cui partecipano esclusivamente le donne e i femminielli, in una sorta di intimità emozionale che esclude rigorosamente gli uomini. Questa tradizione viene riproposta in alcuni spettacoli teatrali messi in scena in città durante le feste, generalmente con un attore non travestì, deputato all'estrazione dei numeri e al racconto di una storia da essi ispirata, mentre gli spettatori spuntano le cartelle. La più famosa di queste tombole è quella scostumatissima di Gino Curcione, che sarà alla Galleria Toledo dal 25 al 28 dicembre e al piccolo Bellini il 25 e il 26 e l'1 e il 2 gennaio. Al San Carluccio questa sera replica speciale di Vive Leroy, un viaggio scenico fra i simboli della Napoli storica, che culminerà con una tombolata e un brindisi col pubblico. E da stasera fino al 30, al Pozzo e il Pendolo, sarà in scena il canto di Natale di Charles Dickens, nella magistrale interpretazione di Paolo Cresta e Carlo Lomanto, racconto fantastico che scorre fra i colori della poesia e la sprezza della satira, con suoni e musiche improvvisati dal vivo. Anche a Natale prosegue l'attività di Sala Icos, il piccolo e vivace teatro di San Giovanni a Teduccio, che fino a domani sera metterà in scena Baal, opera prima di Bertolt Brecht, in una rappresentazione poetica e visionaria che rilegge con straordinaria invenzione scenica l'epica antiborghese di Brecht.